Perchè a me la vicenda della Sea-Watch non torna. Allora, la Sea-Watch è una nave battente bandiera olandese. Secondo me l'Italia deve... O tu mi dici che quella nave non la riconosci? Che vuol dire che quella è una nave pirata? Che a casa mia significa, sempre secondo le norme internazionali, che tu devi arrestare l'equipaggio della nave. E secondo me la devi affondare. Quello farebbe... Arrestare l'equipaggio della nave... Affondare... Arrestare l'equipaggio della nave pirata... Affondare... Arrestare l'equipaggio della nave... Affondare... Affondare... Arrestare l'equipaggio della nave... Affondare... Affondare... Arrestare... Arrestare la nave... Affondare... Affondare... Arrestare... Cara Olanda ti stai mettendo a fare traffico illegale di immigrati Arrestare l'equipaggio della nave tirata Che a casa mia significa sempre secondo le norme internazionali che tu devi arrestare l'equipaggio della nave e secondo me la devi affondare Connare